e alla fine dopo vari tentativi e grazie alla collaborazione di più squadre in lizza per il super premio la ghiotta cuccagna è stata conquistata tra gli applausi dei tantissimi spettatori presenti a corsi nonostante il freddo pungente nel piazzale mich di contrada zirifico grasso vento e vertigini vinti dalla determinazione di impavidi concorrenti mentre a pochi metri di distanza un generoso falò riscaldava e teneva viva la tradizione della festa di san giuseppe a castellaneta un evento reso possibile grazie al motoclub free bikers group castellaneta del presidente michele viverito con tanta musica stand enogastronomici e sani momenti di aggregazione sociale un evento riuscito ma non isolato in piazza federico de martino infatti gli encomiabili volontari del gruppo croce blu castellaneta anche quest'anno hanno mantenuto viva la tradizione del falò allestito in sicurezza e senza rovinare le antiche chianche del centro storico regalando ghiotti panini con salsiccia e golose zeppole a tutti i presenti grazie alla collaborazione di diverse attività commerciali locali altri piccoli falò sono stati poi allestiti in altri quartieri di castellaneta e in tenute private di campagna rinomate per accoglienza ed ospitalità insomma la serata di san giuseppe a castellaneta è stata vissuta a pieno da tutti con grande entusiasmo onorata la festa del papà onorata la tradizione